Ciao ragazzi bentornati sul canale mca mondo carriera allenatore io sono sempre andre e oggi ragazzi riprendiamo in mano ancora una volta un'altra bellissima serie iniziata ragazzi l'anno scorso su fifa 21 ovvero i migliori talenti falliti un po' uno simoro però sicuramente conoscete bene questa serie molto ma molto interessante perché andiamo sempre a vedere noi migliori giocatori migliori talenti belli e bravi ma purtroppo ragazzi di tutti i talenti che andiamo a vedere non proprio tutti riescono ad arrivare verso e rispettare le aspettative che hanno e soprattutto quei potenziali eccetera e ragazzi purtroppo sono tanti questi giocatori che non riescono e quindi ragazzi siamo qua appunto per andare a osservare quelli che non c'erano fatta purtroppo ma iniziamo subito ragazzi con reik il primo di oggi è karim reik un giocatore ragazzi che al psv aveva delle aspettative enormi al passaggio in liga col siviglia dove però trova poca titolarità e insomma ragazzi è un giocatore che al psv appunto aveva veramente tantissime aspettative aveva un potenziale di 85 cresceva tantissimo come potete vedere aveva 84 unità 85 difesa 88 fisico sembrava quasi il nuovo van dyke anche perché la nazionalità è quella però ragazzi da quando è passato in liga al siviglia ha avuto sicuramente qualche difficoltà adesso 74 di overall con 77 di potenziale quindi è ben lontano dall'85 che aveva un tempo di potenziale un 67 velocità un 73 difesa un 76 fisico chiaramente non giocando perde i ritmi di gioco e cala la velocità e soprattutto cala anche la prestazione sia fisica che difensiva chiaramente è un peccato perché reik anche l'anno scorso era anche tra i migliori difensori olandesi giovani per crescita però ragazzi purtroppo quest'anno gli è andato così è comunque stato un po' un periodo in decadenza da fifa 14 a 22 vedete che c'è veramente tantissima differenza però sicuramente a mio parere è uno di quei giocatori super recuperabili come altri che andremo a vedere oggi il secondo ragazzi è yassin benzia questo ragazzo algerino che come vedete nel tempo ha cambiato anche nazionalità era un grandissimo talento ai tempi del lione che purtroppo si è perso un po' tra prestazioni altalenanti nelle successive avventure ragazzi ora comunque gioca ancora in ligano o forse league 2 non mi ricordo comunque in fifa 14 anche lui un 85 di potenziale tre quartista con 92 di velocità 84 tiro 90 dribbling 86 passaggio e anche un buonissimo 75 di fisico perché non mi pare sia molto alto però ragazzi era veramente una forza della natura un tre quartista assurdo adesso in fifa 22 70 di overall con 71 di potenziale e se prima abbiamo parlato di reiki che era ben lontano dal suo potenziale di un tempo questo benzia non è lontano è veramente dall'altra parte del mondo diciamo del suo potenziale che aveva in fifa 14 adesso diciamo un misero 66 di velocità un 68 di tiro un 70 di passaggio 73 di dribbling 45 difesa è peggiorato anche in questi tre punti di difesa e 60 di fisico sicuramente una bruttissima una brusca discesa per questo ragazzo che come vedete in fifa 14 ci sembrava essere che ne so il Foden di adesso cioè diciamo anche un po' per la grandi linee Foden in teoria dovrebbe rispettare un po' di più il potenziale però lui sembrava veramente un giocatore fatto e finito pazzesco purtroppo come vedete non sempre le cose nel calcio vanno come si vuole il terzo giocatore di oggi ragazzi è Lazar Markovic commentate ragazzi se vi ricordate di questa bestia di questa freccia ragazzi in fifa 15 soprattutto quando era a liverpool ed era velocissimo era una forza della natura ragazzi un talento però purtroppo un ennesimo talento perso tra infortuni e problemi fisici tra i cambi di ruoli poco spazio e nel 19 poi il ritorno in patria ora ragazzi in fifa 19 è l'ultima volta che è stato visto diciamo su fifa poi ragazzi che è scomparso nessuno l'ha più visto era al fulham però ragazzi nel fifa 15 guardate qua al liverpool 87 di potenziale con 96 di velocità 78 tiro 82 passaggio 90 dribbling 65 di fisico poi la difesa non la guardiamo neanche perché è veramente tanto ma tanto offensivo e ora ragazzi in fifa 19 ora ragazzi non lo so però 74 di overall con sì 84 di velocità 66 di tiro 70 passaggio 80 dribbling diciamo che le caratteristiche sono rimaste quelle perché il tipo di giocatore è questo è un esterno veramente basso ma molto molto veloce baricentro bassissimo rapido si salta sempre calcia manca abbastanza bene però come vedete è sceso tutto in proporzione no dal 96 di velocità 84 dal 78 di tiro a 66 quindi ragazzi insomma purtroppo anche Lazar Markovic tra tantissimi ma tanti tanti infortuni è andato un po' a peggiorare però sicuramente non potremmo riprovarlo adesso perché non è su fifa 22 però potremmo ricrearlo noi e perché no se qualcuno è uno sfegatato di Lazar Markovic attenzione a Allen Alirovic anche quest'anno ragazzi portiamo questo talento che veramente ma veramente credo che sia uno dei talenti falliti più eclatanti degli ultimi anni ragazzi perché dal Barcellona alla championship cioè ragazzi possiamo intendersi questo ragazzo come vedete in alto dalla grafica ha veramente girato tantissime squadre dalla Dinamo al Barcellona al racing adesso attualmente in championship aveva 91 di potenziale in fifa 16 da 74 di overall adesso 74 il suo potenziale cioè vedete come cambiano le cose nel calcio si sono passati anni il talento comunque c'è però in fifa 16 92 di velocità 82 di tiro 90 passaggio 93 dribbling cioè era veramente un trequartista della madonna un croato assurdo adesso ragazzi il racing un 70 di overall con 72 di velocità 62 di tiro 70 passaggio insomma ragazzi sì 75 di dribbling che ci può stare però ragazzi per un trequartista vogliamo sicuramente di più almeno per un mio trequartista voglio tanto ma tanto di più di queste statistiche quindi purtroppo anche quest'anno Allen Alirovic non si è ancora riscattato e rimane ragazzi un talento fallito starebbe a voi in teoria riportarlo ai valori e gli arbori di un tempo attenzione Antonio Barreca purtroppo anche anche quest'anno anche oggi dobbiamo vedere un italiano nei talenti falliti sarebbe sempre la cosa migliore non vedere italiani mi dispiace un sacco quando li vediamo però purtroppo ragazzi c'è anche Barreca ragazzi dal grande potenziale di FIFA 17 come vedete 86 alle varie avventure in Italia e all'estero ma Barreca però purtroppo non ha mai raggiunto il suo potenziale ha fatto Torino Monaco Newcastle Genoa Fiorentina e adesso a Lecce FIFA 17 86 di potenziale un terzino molto forte 90 di velocità 81 tiro 86 dribbling 83 fisico veramente super completo ha un FIFA 21 perché ragazzi il Lecce non c'è chiaramente su FIFA 22 con un 71 di ovulo un 73 di potenziale però ragazzi vedete che ne ha anche se dimezzato proprio sceso completamente di 18 20 punti di statistiche quindi veramente un peccato per questo Barreca Marco Rog ragazzi attenzione perché il grande talento del Napoli che sembrava essere veramente un giocatore fatto è finito a livello appunto calcistico quando era Napoli adesso ragazzi al Cagliari sta facendo qualche difficoltà qualche giocata la fa sicuramente ancora buona è chiaramente Mark Rog però non è proprio quello che c'era il Napoli insomma non è espresso veramente il suo potenziale nell'avventure successive ma veramente può essere sicuramente ripreso alla grande anche perché nel 17 in FIFA 17 aveva 86 di potenziale un bel trequartista con 85 di velocità 78 tiro 86 passaggio 88 dribbling adesso ragazzi è stato spostato un po' più indietro a centrocampo al Cagliari da Mazzarri con un 78 di potenziale quindi come vedete c'è quel 4 di margine di crescita che sicuramente può aumentare e non poco però comunque 70 di velocità insomma le statistiche le vedete va ripreso ampiamente ragazzi penultimo giocatore di oggi Chukwemea Onyekuru ragazzi questo ragazzi sono sicuro che lo conoscete era un grandissimo talento in FIFA 17 ma anche lui non ha mai raggiunto il suo potenziale aveva un potenziale di 87 questo nigeriano con 99 di velocità 85 tiro 89 dribbling veramente devastante adesso però ragazzi all'Olimpiakos è rimasto comunque con una velocità straordinaria almeno fino all'anno scorso perché comunque non è che da 99 di velocità diventi 70 in 3-4 anni però ragazzi insomma c'è da migliorare un po' tutto perché ora è un 75 di overall con un 80 di potenziale anche lui lontano dall'87 di un tempo però 90 velocità 80 dribbling sicuramente può essere ripreso alla grande e l'ultimo giocatore di oggi ragazzi è Viktor Kovalenko un giocatore veramente tanto ma tanto interessante che ragazzi era una grandissima promessa dallo Shakhtar all'avventura per l'Italia che finora almeno non ha riservato grossissime gioie diciamo così al talento ucraino che in FIFA 17 come vedete lo Shakhtar un 87 di potenziale un trequartista con 90 di velocità 84 tiro 87 dribbling 85 passaggi 81 fisico c'è veramente un mostro di 10 e poi ragazzi quest'anno allo Spezia con un 77 di potenziale che come vedete da 7 a 3 di overall ci sta sono 10 punti meno di potenziale rispetto a FIFA 17 però come vedete le statistiche sono tutte equilibrate un po' come FIFA 17 dimezzate diciamo però tutte complete e tutte sicuramente riprendibili quindi ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video commentate ragazzi se proverete uno di questi talenti falliti se proverete appunto a riportarlo al potenziale e alla forza diciamo così di un tempo iscrivetevi al canale lasciate un mi piace attivate la campanella e noi ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi